Cittadinanza onoraria della città di Foggia alla memoria di Navanli, martire della libertà. E la mozione avanzata dai consiglieri comunali Nunzio Angiola e Stefania Rignanese al Consiglio Comunale di Foggia. Il 16 febbraio scorso ha fatto il giro del mondo la notizia della scomparsa di Navanli, principale oppositore del governo russo, deceduto a 47 anni in un carcere situato tra il circolo porale Artico, dove era stato recentemente confinato. Le circostanze del suo decesso rimangono ignote. Il decesso di Navanli, hanno dichiarato Angiola e Rignanese, costituisce un capitolo doloroso nella storia mondiale e consegna alla città di Foggia medaglia d'oro a valore militare, medaglia d'oro a valore civile, un fulgido simbolo di tenace ed eroica lotta per la libertà e per i diritti umani, per il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione che deve diventare fonte di ispirazione per la comunità, soprattutto per le nuove generazioni. I due consiglieri hanno depositato una mozione chiedendo con forza al Consiglio Comunale, attraverso la mozione depositata, di impegnare Sindaco e Giunta a concedere l'onorificenza della cittadinanza onoraria o in via del tutto subordinata di intitorargli, in raccordo col Ministero degli Interni, una piazza o una strada.